Ciao a tutti! Può capitare, è anche abbastanza frequente, che in questo periodo ci si macchi un pantalone o una gonna con la crema solare. Magari ci stiamo mettendo la protezione nella parte superiore del corpo, sotto abbiamo ancora un pantalone o una gonna di cotone leggero e rimanga subito, appena cave la crema, quel bel profondo alone che è una macchia sicuramente bella persistente. Vediamo insieme come intervenire e come risolvere al 100% questo problema che si è creato. Avevo messo questi pantaloni proprio perché sono leggerissimi e avrei potuto anche lasciarmi di spiaggia, visto che adesso il tempo è ancora un po' ballerino, ma mi è caduta subito la crema. Io l'ho raccolta immediatamente con un tovagliolo ma è rimasto questo alone che vi ho fatto vedere e quindi come sono arrivata a casa ho fatto il procedimento, quello classico per eliminare la crema solare, che è utilizzare, consiste nell'utilizzare il sapone per i piatti, perché il sapone per i piatti è altamente sgrassante e la crema, la mia era una protezione addirittura 50, ha proprio bisogno di essere sgrassata, staccata via dai tessuti. Una volta lavato appunto con un po' di, una piccola quantità di sapone per i piatti, ho lasciato in immersione per 15 minuti con della candeggina delicata, seguendo quelle che sono le istruzioni del prodotto. Ho messo un pochino, un tappino di candeggina, ho lasciato in acqua per 15 minuti, dopodiché ho risciacquato bene, mi raccomando evitate di lasciare troppo a lungo la candeggina, potrebbe danneggiare il tessuto e mi raccomando utilizzatene una delicata, adatta al tessuto che state utilizzando, soprattutto se è un tessuto colorato, quindi una adatta ai colorati. Andiamo a risciacquare abbondantemente con acqua e poi, una volta steso ed asciugato, ci accorgeremo che quell'alone che sembrava davvero quasi un dramma accaduto, perché sembrava non ci fosse più nulla da fare, che avremmo dovuto buttare il pantalone, ecco qua che è sparito completamente. Ecco qua, io ve l'ho dato come consiglio perché capita, capita spessissimo, soprattutto all'inizio dell'estate. Arrivederci, al prossimo video e se vi servono altri consigli, chiedetemeli. Io sono qui, arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.